A giugno 2021 si rileva un aumento degli occupati e una diminuzione sia dei disoccupati sia degli inattivi rispetto al mese di maggio dello stesso anno. Lo rende noto l'Istat. La crescita dell'occupazione dello 0,7% comporta 166.000 occupati in più e coinvolge sia gli uomini che le donne, sia i dipendenti che gli autonomi e tutte le fasce d'età. Il tasso di occupazione sale quindi al 57,9%. Il tasso di disoccupazione scende al 9,7% e torna dopo 5 mesi sotto la soglia del 10%, mentre tra i giovani si attesta al 29,4%. Tra maggio e giugno si riduce anche il numero di inattivi e il tasso di inattività scende al 35,8%. Confrontando il secondo trimestre 2021 con il precedente, il livello dell'occupazione è più elevato dell'1% con un aumento di 223.000 unità. La casa farmaceutica inglese AstraZeneca chiude il primo semestre del 2021 con un notevole aumento dei ricavi. Registra infatti un più 23%, pari a 15,5 miliardi di dollari e solo nel secondo trimestre ha visto una crescita del 31%. Lo rende pubblico lo stesso gruppo in una nota. Grazie ai vaccini anti-Covid, AstraZeneca ha ottenuto ricavi per 895 milioni. Escludendo il vaccino dal computo dei ricavi, la casa farmaceutica registra comunque una crescita del 14% dei ricavi del semestre. Grazie all'acquisizione di Alexion Pharma, AstraZeneca conta di poter crescere ulteriormente nel prossimo futuro. Nel mese di giugno 2021 i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati dell'1,4% su base mensile e del 9,1% su base annua. Lo comunica l'Istat che prosegue spiegando che sul mercato interno i prezzi crescono dell'1,7% rispetto al mese di maggio e dell'11% su base annua. Al netto del settore energetico i prezzi vedono un aumento meno deciso, infatti a livello congiunturale si registra un più 1%, mentre a livello tendenziale si vede un più 5,2%. Per quel che concerne il mercato estero invece i prezzi aumentano su base mensile dello 0,9% e su base annua vedono un incremento del 4,4%. Il governo ha approvato il decreto legislativo contro le pratiche sleali nel commercio alimentare, un modo importante per combattere le speculazioni sul cibo dal campo alla tavola. Il decreto legislativo, fortemente voluto dalla Col di Retti, reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari. Pratiche sleali, spiega la Col di Retti, che vanno dai ritardi nei pagamenti e annullamenti di ordine dell'ultimo minuto per prodotti alimentari e deperibili, alle modifiche unilaterali o retroattive ai contratti fino al rifiuto dei contratti iscritti e al divieto di pagare al di sotto dei prezzi di produzione.